amici del drone racing della coppa italia drf bentornati per gara 3 in quel di petrelle in provincia di perugia vediamo e scopriamo subito insieme la pista disegnata da fumogeno sulla quale si affrontano oggi e domani i nostri piloti e dunque gate del traguardo rettilineo e subito slalom tra queste tre bandiere curva secca sinistra gate muro e poi curva sinistra destra sinistra serpente in mezzo a questi tre gate si va verso questo gate alto e quindi verso il trigate che si fa scendendo a chiocciola sulla sinistra poi si continua con una virata a 180 gradi sotto il tunnel rettilineo curva destra sulla bandiera gate poi si sale sopra il tunnel verso il dive dopo il dive gate curva destra e curva sinistra intorno a queste due bandiere che si lasciano all'interno gate muro split s gate si torna indietro a destra si scavalca al passaggio a livello e poi ci si passa sotto curva destra gate ultima curva sinistra bandiera e traguardo pista molto bella molto veloce classico stile petrelle by night buona gara a tutti grazie a tutti grazie a tutti